A maggior ragione, se... Allora, non mi interrompo lì, mi è semplato di capire che a fronte di un atteggiamento di ranale più conciliante nei confronti del nostro partito, un atteggiamento di ranale più conciliante del nostro partito, non ci sia una chiusura, come infatti non c'è mai stata una chiusura autonale, c'è stato soltanto l'invito che lui si comportasse diversamente, prendesse in qualche modo in mano la responsabilità di essere candidato e quindi da l'idecci del centrosista allargasse la coalizione e evitasse in qualche modo di adattare atteggiamenti offensivi nei confronti del nostro partito. Se c'è questa apertura, se io ho capito bene il ragionamento che c'è, questa apertura e non mi sembra che ci sono stati ragionamenti di chiusura da parte di altri, dal stesso Antonio, e poi ognuno dice le cose così come l'ha da un modo suo. Se è questo, forse su questo termine non si può pensare a quella di lavorare, certo a breve.